Michele era un talento nella corsa. Non ho avuto il coraggio di dirglielo. La tua lesione non è curabile. Questi poveretti soffrono. La parola poveretti viene abolita per sempre. E noi i giochi so belli che finiti. Per voi i giochi iniziano adesso. Cerci vuole il coraggio e pensavo ne aveste. Io ce l'ho il coraggio, dottor. Perché non c'ho le gambe. Un film di Marco Pontecorto. Chi ha convidato? Mi vuole far giocare a pallacanestro. In che rozza, signori. Io a vederlo sembrava normale. Sono i più pericolosi. Una storia rivoluzionaria. Voglio organizzare dei giochi. Le Olimpiadi. Quelli vede. Andiamo a farci amore. Chi ha accese la fiamma dei primi giochi paralimpici. Loro non sono normali. Loro sono straordinari. Ammuso duro.